Hi guys! Benvenuti o ben ritrovati in questo nuovo video. Come avrete già letto dal titolo, oggi andremo a affrontare il tema siliconi. Siliconi sì o siliconi no? Vedremo chi vincerà, ma subito dopo la sigla. Eccoci qui, oggi andremo a affrontare la fatidica domanda Siliconi sì, siliconi no? Voi che dite? Scrivetemelo nei commenti e poi fatemi sapere la vostra alla fine del video. Quindi andiamo alla fatidica domanda. I siliconi sono il male assoluto? Per che tipologia di capelli sono più indicati? Perché li mettono? A cosa servono? Come vi ho detto già nel video scorso, i siliconi non fanno altro che andare a depositarsi nella parte esterna del nostro capello. Depositandosi nella parte esterna del nostro capello non fa altro che andare a creare una sorta di film che non permette la penetrazione delle sostanze attive nutrienti all'interno di champi, oli, conditioner, insomma chi più ne ha più ne metta perché ad oggi ci sono talmente di tanti quei prodotti che non finirei qui per elencarli. Una volta aver capito che i siliconi non fanno altro che depositarsi nella parte esterna dei nostri capelli, lì per lì li notiamo sempre belli, morbidi, lucidi, setosi e magari anche più leggeri. Però realmente non stiamo andando a nutrire i nostri capelli. Ora, la domanda è possiamo usarli o non possiamo usarli? Allora questa domanda è del tutto soggettiva. Noi dobbiamo essere a conoscenza di ciò che ci mettiamo sui nostri capelli. Sapendo cosa mettiamo sui nostri capelli possiamo capire se questo prodotto è più adatto per noi o meno. Vi faccio un esempio. Se noi abbiamo tipologia di capelli X, crespa, riccia, indomabile, in questo caso i siliconi potrebbero esserci d'aiuto perché formando appunto questo film all'esterno del nostro capello non fanno altro che aiutarci a districarli. Avendo i capelli molto ricci, molto crespi o magari possono essere ricci afro, i siliconi a volte possono aiutare, possono darci quella marcia in più per riuscire a spettinare, a togliere i nodi sui nostri capelli. Ciò vale anche per qualsiasi altra tipologia di capelli. Attenzione. Ma adesso facciamoci un'altra domanda. Realmente, quando sono utili i siliconi? Per esperienze personali, sapete che sono un parrucchiere e ci tengo a specificare tutto ciò spiegandovi a 360 gradi come funziona questo lato di cura del capello. Essendo un parrucchiere, i siliconi diciamo che sono nati per appunto dare quell'effetto, quella morbidezza, nell'istantaneo che con un prodotto naturale non puoi ottenere. Subito. Perché il prodotto naturale, il prodotto biologico, il prodotto che ti nutre realmente il capello ha bisogno di costanza, ha bisogno di applicazioni, di più applicazioni per poter realmente fare un effetto al capello. Perché ricordiamoci che stiamo trattando di materia morta, perché i nostri capelli sono materia morta. Sono delle nostre, chiamiamole delle nostre estensioni. Quindi bisogna andare a nutrirli adeguatamente. Bisogna andare a nutrire adeguatamente secondo, secondo sempre il mio pensiero, è quello che ho dedotto in questi anni di studi, in questi anni di esperienze personali, di prove personali. Perché io ho da 7-8 anni che sono consapevole di tutto ciò che utilizzo. Perché appunto mi sono iniziato a informare con l'inci, l'ingredientistica e il tutto. Quindi tutto ciò è dovuto in realtà a un danneggiamento dei miei capelli. Perché avevo una situazione un pochettino strana di capelli. Ero nel periodo in cui ero, diciamo, alla scoperta di come poter diventare biondo, di come poter avere quel biondo bellissimo che vedevo a quei bambini al mare, super biondi con quelle mesce naturali che io amavo. Volevo anch'io avere i capelli così. Quindi prova questo, prova l'ossigeno, metti in testa l'ossigeno, prova il decorante, prova questo, prova l'altro. Alla fine mi sono rovinato letteralmente i capelli. E per poter nutrire adeguatamente io ho dovuto fare una ricerca. E quindi sono venuto a scoprire questo mondo un po' nascosto, un po' così. Ma veniamo al dunque. Secondo il mio parere personale e secondo altri studi comunque di altre persone che hanno provato e sono arrivate ad una propria loro conclusione. Quindi diciamo che questo, secondo me, è il metodo più giusto per poter mantenere sempre i capelli in uno stato ottimale di salute. Bisogna. Prima di tutto nutrirli e lavarli con prodotti il più possibili naturali. Naturali che funzionano realmente. Ci sono anche tanti prodotti biologici naturali che in realtà, stavo per morire, che in realtà sono troppo poveri come materie prime. Ci sono però, è troppo poco magari, per una persona che si sta appena affidando al mondo del naturale o al mondo della sana nutrizione, nutrizione perdonatemi, sana nutrizione del capello, che si sta abituando a questo mondo. Quindi un capello che ha questo shock da un prodotto siliconico, un prodotto naturale, subito si irrigidisce, diventa duro, crespo, si spezzerà probabilmente perché sta tendendo a sogliere pian piano questo silicone depositatosi sulla nostra cuticola esterna. Ma magari di questo ve ne parlerò in un prossimo video. Quindi, avendo una giusta nutrizione del capello stesso, nessuno poi ci vieta di andare a utilizzare dei siliconi per poter sublimare, lucidare e ammorbidire il capello. Vedetela così. Se al di sotto il nostro capello è sano e nutrito, se noi andiamo ad applicare successivamente, quindi con un prodotto pre-styling, con un olio, con un lucidante, se andiamo ad applicare questi prodotti da styling al di sopra del nostro capello ben nutrito, non faremo altro che andare ad esaltare questa sua lucentezza. Andando ad esaltare questa sua lucentezza, non avremo il problema delle doppie punte e delle punte spezzate o del capello disidratato, perché al di sotto sarà ben nutrito e noi sigilleremo quel nutrimento tramite l'ausilio dei siliconi. Quindi pensate ad un attimo così. Ottima detersione, un ottimo nutrimento, e poi come finish, non appunto si chiamano finish, prodotti pre-styling, per proteggere i capelli dal calore. Non c'è nessun prodotto naturale che vi protegge i capelli dal calore, perché appunto dobbiamo andare a creare una sorta di pellicola al di sopra che non ci permette di ustionare, bruciare i nostri capelli al di sotto. Il capello se è ben nutrito si brucia molto meno e non dà quell'effetto crespo. Capello nutrito, capello meno crespo, capello più morbido, capello lucido, capello sano. Non so perché non ho continuato a contattare, però vabbè. Se il nostro capello è ben nutrito dal di sotto, noi al di sopra potremo andare a mettere pure un prodotto pieno zeppo di siliconi. Non faremo altro che andare a desaltare e magari a proteggere dal calore il nostro capello. Quindi secondo il mio punto di vista o punto di vista di anche altre persone, dalla mia esperienza è tutto, il metodo migliore fa avere un mix di entrambi. Perché i prodotti siliconici sono cosmeticamente approvati, funzionano, ormai lo sappiamo. Io stesso sto provando dei prodotti sì solo siliconici e prodotti solo naturali per vedere realmente questi due prodotti come si comportano. Ma quello diciamo in cui sono arrivato io alla soluzione è appunto che bisogna avere un giusto mix di entrambi. Se utilizziamo una maschera anche siliconica, che c'ha qualche silicone all'interno, dobbiamo assicurarci che all'interno ci siano anche degli attivi che funzionino realmente. Per carità, faranno più effetto i siliconi perché appunto sublimano il nostro capello, quindi lo vanno ad ammorbidire immediatamente. Quando un prodotto vi ammorbidisce presto il capello, il tempo che lo applicate già è morbido, è bello, districato soprattutto, probabilmente contiene siliconi. Ma ripeto, l'importante è avere un giusto bilanciamento di entrambi. Avendo un giusto bilanciamento di entrambi, li nutriamo, ma allo stesso punto li proteggiamo magari da un possibile calore, una possibile piastra. Anche gli agenti atmosferici, quindi come il sole, che sappiamo benissimo che anche il sole schierisce il colore, rende d'estate quante volte capita che abbiamo i capelli molto più chiari perché appunto stando esposti al sole, i capelli nostri si schieriscono, viene rovinata, viene intaccata la melanina del capello in sé. Arrivando alla conclusione che è meglio utilizzare i più prodotti possibili naturali come routine, come quotidianità, come nutrimento, il prodotto siliconico, ripeto, ci sta tutto alla fine. Questo non toglie che possiamo utilizzare anche solo prodotti siliconici, possiamo utilizzare solo prodotti naturali. Se utilizziamo solo prodotti naturali facciamo anche un grandissimo piacere al nostro ambiente perché appunto ci mettono tantissimo tempo, adesso di preciso non so, ma i siliconi a degradarsi nell'ambiente ci mettono davvero tantissimo tantissimo tempo perché sono prodotti comunque ricavati in fabbrica, nelle industrie e non sono biodegradabili. Bene, i prodotti professionali solitamente hanno all'interno un po' di tutto. Hanno prodotti siliconici, hanno ingredienti naturali, raccolti magari da un bio olio di calendula, per fare un esempio, mi è venuto questo in mente. Quindi io quello che penso sempre è che un giusto mix di entrambi fa bene. L'esagerazione di uno, l'esagerazione di altro, ci sono aspetti positivi e negativi, questo sicuramente. Vi porto un altro esempio. La tipologia di capelli mia, quindi, crespi, ricci, decolorati, li stiro sempre avendoli ricci, lasciate stare che li ho corti, però una capellatura magari più lunga come le mie modelle che ogni tanto mi vengono quei flash, quelle voglie di fare, quindi chiamo l'amica che dico devo provare questa cosa e quindi la faccio, quindi ha capelli più lunghi, quindi mi occupo anche del lato curativo, del loro stato di salute del capello. Sicuramente è più indicato utilizzare magari prodotti un po' più siliconici per andare a proteggere realmente il capello, perché un capello completamente decolonato, un capello completamente bianco e senza pigmento, è stato svuotato letteralmente da tutta la melanina. Essendo svuotato il capello è più debole, è più fragile, è più delicato, quindi sicuramente l'uso del silicone non fa altro che aiutarci nel mantenimento, ma se utilizzassimo solo prodotti siliconici in questo caso avremmo la distruzione completa del capello, perché essendo già vuoto, già sfruttato, già secco di suo, se andassimo solo a utilizzare prodotti siliconici non faremo altro che andare a peggiorare la situazione, quindi rendendoli crespi, bruciati, pieni di doppie punte, noi dobbiamo trovare il giusto mix, dobbiamo trovare il giusto mix e ognuno ha il suo, questo è ovvio. Ci sono anche dei prodotti naturali che riescono a dare l'effetto del silicone. Sicuramente, ripeto, sarà un fattore più ambientale il fatto di non utilizzare il silicone nei prodotti della cura del corpo in generale, perché anche nei prodotti da viso ci sono siliconi, ci sono siliconi ovunque. Non sono anche con la nostra pelle, non si miscelano, non nutrono come quello che può essere un olio o un burro. Ragazzi, questo è il quanto, fatemi sapere se avete qualsiasi tipo di domanda giù nella sezione commenti, lasciate un like, un commento, già l'ho detto, però iscrivetevi al canale, attivate la camparellina e seguitemi anche su Instagram e TikTok, dove ci sono ogni settimana tantissimi look diversi e tantissimi video, insomma, dirette, c'è di tutto e noi ci rivediamo ad un prossimo video.